Roberto Straccia ha ucciso dagli amici o dalla madre? E' la domanda che campeggia su alcune pagine di Facebook e che invitano apertamente ad effettuare scommesse sulla sorte del giovane 24enne scomparso da Pescara il 14 dicembre scorso. Il gruppo creato sul network ha suscitato l'indignazione di molti utenti della rete e naturalmente degli amici di Roberto che hanno segnalato la comunità alla polizia postale invitando tutti a fare altrettanto. L'individuo che si cela dietro questo fenomeno si legge in un comunicato della pol post e comunemente definito con il nome di troll, elemento cioè disturbatore delle comunità virtuali che interviene appositamente sul web pubblicando commenti, foto, qualsiasi tipo di messaggio o contenuto irriverente prendendo come spunto gli eventi considerati di maggiore richiamo allo scopo di creare scompiglio e confusione. Su Facebook in particolare è anche diventato un modo di fare incetta di dati personali creando ad arte gruppi come è successo in passato che scatenavano istintivamente reazioni rabbiose chi non ricorda i gruppi creati sul terremoto all'Aquila, inducendo gli utenti a pubblicare commenti molto offensivi e a iscriversi al gruppo. Questa attività però fa guardare con sospetto anche a quei gruppi che vengono creati quasi contestualmente e che invece stimolano ad associarsi per combattere i creatori del gruppo provocatorio. La Polpost quindi invita gli utenti della rete ad avere un approccio molto cauto con la questione ricordando che aderire ad un gruppo spesso vuol dire condividere tutti i propri contatti, tutti i propri contenuti e tutte le proprie informazioni personali. L'unica cosa da fare, suggerisce sempre la polizia postale delle comunicazioni, è quella di non farsi trascinare dalla provocazione, ignorare e segnalare la pagina ai gestori stessi del sito cliccando su segnala pagina in basso a sinistra della videata Facebook come nelle immagini, astenendosi dall'aderire a gruppi e soprattutto dal pubblicare commenti di qualsiasi tipo.